benvenuti in questo nuovo video su sport excel in cui oggi andremo ad apportare delle modifiche alla scheda di allenamento che abbiamo creato nello scorso video per prima cosa selezioneremo la colonna esercizi e cliccheremo su convalida dati per poi premere messaggio di input questo per permettere ad altri utenti di capire in maniera più semplificata come interagire con la tabella la seconda cosa che andremo a correggere è il messaggio di errore che avverrebbe se volessimo inserire un esercizio non presente nella lista creata precedentemente quindi andremo su convalida dati cliccheremo messaggio di errore nella casella stile e andremo a selezionare informazione questo ci permetterà di inserire nuovi esercizi senza dover modificare tutta la lista adesso andremo a creare una tabella per annotare commenti e note selezioneremo l'area di nos interesse premendo ctrl più 1 nella sezione allineamento andremo a selezionare alla dicitura orizzontale a sinistra e in quella verticale in alto premendo anche la casella testo a capo in questo modo potremo scrivere nel nostro riquadro appena creato e per oggi è tutto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video cliccate mi piace e condividete se il video vi è stato utile